Il regalo di Natale più bello per la famiglia di Alex Zanardi, quello di riaverlo a casa. Il campione paralimpico ha lasciato l'ospedale dopo oltre un anno e mezzo dal terribile incidente in handbike avvenuto in Toscana nel giugno del 2020. La bella notizia è stata data dalla moglie Daniela attraverso il sito di BMW Italia di cui Zanardi è testimonial. Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è a casa con noi annunciato specificando che in futuro comunque il campione di handbike dovrà affrontare ancora dei soggiorni temporanei in cliniche specializzate per continuare il lungo percorso di riabilitazione. Ma adesso, dopo un lungo periodo, prima all'ospedale di Siena, poi al San Raffaele di Milano e poi a Padova e in altri ospedali del Veneto, Alex potrà stare tutto il giorno con i suoi familiari e trascorrere un Natale a casa circondato dall'affetto dei suoi cari che sono stati sempre al suo fianco in questa ulteriore sfida che la vita gli ha riservato. Grazie.